Mara Veniera ha aperto la puntata di Domenica in inonda il 18 settembre con un rapido servizio sulla tragedia dell'alluvione avvenuta nelle Marche, per poi velocemente dare spazio a un maxiblocco lungo circa un'ora dedicato alla morte della regina Elisabetta Secu. In un'Amen il Salotto del Varietà di Rai 1 si è trasformato in una sorta di La Vita Indiretta Domenicale, con Alberto Matano a dirigere le operazioni al tavolo, diversi ospiti, tra cui Silvana Giacobini, Marco Varbello e Laura Bosetti Tonatto. In aggiunta ci sono stati dei collegamenti con gli inviati Rai a Londra, ringrazio La Vita Indiretta, l'abbiamo saccheggiata, ha chiusato a un certo punto la conduttrice veneta, evidentemente consapevole di aver riproposto una copia del talk feriale in una slot di Domenica in. Ma per noi è una famiglia, si è affrettato a dire ma più di una famiglia, la controreplica affettuosa dell'amica Vennier. Il punto è che l'ampio spazio in omaggio alla figura della sovrana britannica è parso un poco ridondante e privo di ritmo in calza. Sono stati fatti passare in rassegna una serie di argomenti triti e ritriti sentiti in questa settimana. Le frizioni tra Harry e Meghan con il resto della famiglia reale, le geff di Carlo III, la vena nostalgica del popolo inglese per la perdita della loro regina. La scelta di puntare così a lungo su un simile argomento è parsa alquanto opinabile. Eppure opinabile il fatto di riproporre in studio Alberto Matano. Nulla da dire sulla professionalità e la preparazione dell'ex mezzo busto. Il punto è un altro, il rischio di sovraesposizione sia del volto del giornalista sia delle tematiche trattate. E ciò si aggiunge che una buona fetta di pubblico di domenica inizia ad essere insofferente alla riproposizione nel programma dei soliti. Non che ci sia qualcosa contro i conduttori che condividono una ferra amicizia, ma si sa che il troppo stroppia e il rischio della minestra riscaldata che possa stufare gli utenti è dietro l'angolo. Infatti, come già accaduto una settimana fa, sui social non tutti hanno gradito la presenza di Matano nel talk festivo. Mara, ti voglio bene ma se inviti i tuoi amici tipo Matano eccetera. Non sono di nostro gradimento, perché non ve la fate fra di voi. Praticamente la vita in diretta, pure di domenica, ha fatto eco un altro utente. E ancora, domenica in o una replica della vita in diretta. Qualcuno ha usato toni più coloriti, che pal. E Matano. Pure di domenica. To. Matano domenica in. Strano. Non c'è mai stato, l'ironia di un altro internauta.